Grazie per l'invito, vorrei rassicurare sia Angelo Consoli che il moderatore, sicuramente i candidati sottoscriveranno questo decalogo, quindi su questo non c'è dubbio. Il tema vero, come sempre, è quello del giorno dopo, di qual è la rispondenza della firma del decalogo rispetto alle cose da fare, alle tante cose da fare in un momento particolarissimo, in una prospettiva di grande opportunità, perché è vero che noi non abbiamo utilizzato le risorse comunitarie, né stamattina vorrò sparare sul governo perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, su questo tema, se penso anche a quella data, che è una data importante nel 2009, io l'assessore all'industria ho depositato in giunta 1999 il piano energetico regionale, sono serviti dieci anni per fare quel documento, quel piano energetico regionale, qualcuno ricorda che avevamo lavorato anche a quel documento e quindi sono serviti dieci anni, ma è sempre un obiettivo importante, il tema vero degli ultimi anni del governo che ci lascia è tra la decisione politica, tra il documento, tra il decreto, tra la legge e poi l'applicazione concreta, purtroppo nulla di tutto quello che è stato denunciato è stato realizzato, oggi è un'altra pagina, un impegno vero ai candidati per dire grandi opportunità, grandi occasioni e soprattutto un momento particolare, che è vero che non abbiamo utilizzato le risorse, è vero che questo è l'inizio della nuova legislatura, spero che possa portare anche ad una riprogrammazione, ad una rivisitazione dei fondi strutturali, concentrarci su alcune cose, penso che sul tema delle energie rinnovabili si potrebbe fare un intervento, un investimento, si potrebbero concentrare alcune risorse e magari provare a perdere meno risorse per la nuova programmazione, a perdere meno risorse del 2007-2013, quindi questa potrebbe essere una prima indicazione da dare ai candidati del programma operativo, prendiamo le risorse, una buona fetta le destiniamo voi al disesto idrogeologico, al setto idrogeologico, il tema del rifiuto, il tema dell'energia, quindi questi sono alcuni temi essenziali, fondamentali che potrebbero far recuperare una parte del tempo perduto che purtroppo è una grande opportunità, grande occasione, grandi prospettive di natura economica, però questo è il tempo anche della nuova programmazione, oggi noi siamo nella condizione di presentarci a Bruxelles, andare a chiedere nuove risorse, chiedere risorse per la programmazione 2014-2020, la Sicilia manterrà le stesse risorse, almeno si spera, pur in presenza di diverse politiche, oggi quando parliamo di bilancio dell'Unione Europea dobbiamo pensare che c'è sempre una politica agricola comunitaria che pesa per il 40%, c'è il bilancio, ha già delle voci abbastanza ingessate, però sono nuove politiche da finanziare, quindi in questo quadro le risorse che probabilmente afferiranno alla Sicilia, alla regione del Mezzogiorno sono risorse importanti e quindi la programmazione 2014-2020, l'impegno prioritario del nuovo governo è come poter attrarre quelle risorse, come poter programmare, come poter pianificare e quella è la prima vera scommessa del governo che si inserirà, perché quella è la prima scommessa, perché noi abbiamo una, se c'è un'esperienza che mi ha portato anche ad alcune considerazioni, c'è una fase della programmazione, c'è una fase della pianificazione, che è questa, che è la più delicata, la più cruciale, dove si fanno le scelte politiche fondamentali ed è una fase purtroppo dove la politica è assente, poi c'è una fase della gestione che dovrebbe essere esclusivamente gestionale, quindi affidata ai burocrati, ai dirigenti e che molto spesso è dove la politica ci vuole mettere le mani, allora bisogna riportare in un circuito virtuoso la programmazione appartiene alla politica, le scelte fondamentali sono della politica, il governo dovrà fare le scelte fondamentali e poi c'è una procedura, che mi permettono i burocrati e i dirigenti che sono presenti, ma conoscono tutti il mio pensiero, purtroppo quando facciamo la programmazione tutti quei cavilli sono dei cavilli messi apposta per non utilizzare quelle risorse comunitarie, quindi allora quando parliamo di sburocratizzazione lo dobbiamo fare in questa sede, quando presentiamo i documenti di programmazione, non ha senso che nel 2007 abbiamo scritto che le risorse sarebbero state attivate quando sarebbe stato attivato il piano energetico regionale che poi sarebbe venuto da lì a tre anni, da lì a quattro anni, quindi ci sono tante di quelle questioni, quindi ripianificare, riprogrammare, ripensare, fare scelte fondamentali, penso che questa è una delle scelte fondamentali che va fatta, non c'è dubbio che è una grande opportunità, cosa può fare l'ente locale, cosa può fare chi si ritrova a dover gestire una precedente amministrazione, perché io mi ritrovo qua in questa fase, da presidente della provincia ho gestito una fase dove il mio predecessore era l'attuale presidente della regione, dove il primo atto che mi è stato presentato il dirigente si presenta, non posso essere smentito, e mi dice, siccome c'è un parere previsto dalla provincia, il dirigente si presenta il primo giorno e mi dice, questo parere su questo impianto di energia rinnovabile lo vuoi favorevole o lo vuoi contrario? Scusi, che significa lo vuoi favorevole o lo vuoi contrario? che era la scelta della politica, se il parere era favorevole o lo contrario, io ritengo che quella è una scelta esclusivamente tecnica, a tre minuti il dirigente non è stato più il dirigente di quel servizio e da quel momento a pensare cosa può fare l'ente locale, quale può essere, quale deve essere la dimensione ottimale per gestire alcuni servizi, penso al tema dell'energia, quando noi abbiamo difeso le province sul piano nazionale, non abbiamo difeso le province per voler difendere alcune poltrone, difendere i costi della politica, abbiamo detto, le province hanno una funzione essenziale solo se non svolgono funzioni che già sono svolte dai comuni, se non fanno quello che fanno le regioni, ma quando parliamo di mobilità, quando parliamo di pianificazione territoriale, quando parliamo di energie, quando parliamo di servizi a rete, quando parliamo di acqua, quando parliamo di rifiuti, la provincia è centrale, c'è una dimensione ottimale per la gestione dei servizi, d'altronde anche lo stesso governo nell'ultimo decreto, nel momento in cui smonta le province e poi dice la dimensione ottimale per la gestione dei servizi pubblici e locali è la dimensione provinciale. Allora su questo abbiamo costruito una idea, abbiamo detto di fronte ad un'assenza di un organo di pianificazione regionale, non me lo vorrà l'assessore regionale dell'energia, ho saputo pochi minuti fa che è anche la delega all'energia perché è chiaro che il tempo è troppo breve della sua responsabilità, conosco la sua competenza, la sua professionalità, sarebbe stato altro oggi rispetto a quello, al dramma in cui viviamo. Cosa può fare un ente locale, cosa può fare la provincia, cosa può fare la provincia rispetto ai comuni laddove ogni comune, il comune anche di piccolissima dimensione deve trovarsi a gestire, a pianificare, a programmare, ad autorizzare impianti che hanno una dimensione tecnica, dimensione straordinaria dove gli uffici tecnici molto spesso non hanno né le competenze né le professionalità per poter fare questo. Allora se uno è delinquente trova la maniera come autorizzarlo in tempi veloci, se uno si mette in traverso e l'opera non si realizza mai. Come fare? Abbiamo pensato all'agenzia provinciale per l'energia e l'ambiente, abbiamo istituito l'agenzia provinciale per l'energia e l'ambiente senza costi della politica, abbiamo fatto l'agenzia affidandola a un tecnico dell'agenzia provinciale per l'energia e l'ambiente, cominciare a pianificare, pensare al piano energetico provinciale, concordo con Angelo che la dimensione era quella della dimensione provinciale, quindi l'agenzia provinciale si mette al servizio, si mette a supporto, comincia a immaginare, valuta i piani, il piano pensa di realizzare il piano energetico regionale, devo dire in questo caso abbiamo utilizzato bene i pist, abbiamo immaginato poter utilizzare i pist che sono le risorse che venivano affidate alle amministrazioni locali per dire questi pist chiediamo le risorse 400.000 euro perché siano quelle risorse sufficienti, necessarie per poter dotare il piano energetico, per poter dotare la provincia di un piano energetico provinciale, di poter coordinare i comuni, di poter assistere i comuni, poter dare assistenza tecnica, formazione alle amministrazioni locali. Un'esperienza felice, un'esperienza importante perché affidandola a tecnici abbiamo avuto anche la possibilità, molto spesso non avendo risorse, a sopperire alla carenza tecnica, alle necessità che c'erano di giornata, oggi l'agenzia è una realtà, abbiamo coordinato il patto per i sindaci, visto che la regione si è mosso su questo versante, ma già la provincia di Catania avevano sottoscritto il patto per i sindaci, tutti i sindaci della provincia di Catania, il fabbisogno energetico, la pianificazione, soprattutto l'assistenza alle amministrazioni locali. Quindi il patto per i sindaci, per i sindaci, utilizzazione delle risorse con il PIST e poi anche l'attrazione degli investimenti, le risorse. Abbiamo fatto un programma, siamo state l'unica amministrazione del Centro Sud che ha ottenuto le risorse dalla Banca Europea degli Investimenti, la BEI, utilizzando il programma Elena, dove la provincia di Catania è la prima amministrazione che avrà probabilmente circa 2 milioni di euro per attivare l'agenzia, per fare l'assistenza, per dare supporto alle amministrazioni locali, quindi redigere non solo il piano provinciale, ma poter fare un'attività di supporto, poter fare il censimento, la valutazione, il patrimonio pubblico, le politiche appartengono ai comuni e alle province. Quando parliamo di politiche parlo di trasporto pubblico locale, parlo di costruzione, parlo di edilizia, quindi quanta importanza, quale ruolo può avere oggi l'ente locale è sotto gli occhi di tutte, di grande evidenza e quindi l'agenzia ha supporto di questa attività, ha supporto dell'amministrazione, ha supporto del trasporto pubblico locale, alla pianificazione, alle costruzioni e a tutto quello che ne consegue. Questo vale anche per l'amministrazione pubblica, questo vale anche per la provincia, che aveva, la sola provincia di Catania aveva un costo di energia di 5 milioni di euro, io penso che nell'arco di qualche anno, probabilmente dal prossimo anno lo porteremo a 2 milioni di euro, abbiamo fatto un bando per l'efficientamento di tutto il patrimonio pubblico, di tutte le strutture pubbliche, già il bando è in pubblicazione nel mese di ottobre, sarà aggiudicato perché faremo efficienza energetica, daremo al nostro patrimonio pubblico, a tutte le scuole, immaginate la provincia che gestisce sul territorio provinciale tutte le scuole, le istituzioni scolastiche della provincia, l'istituzione superiore, immaginate cosa potrà servire anche rispetto ai comuni, quindi già sul patrimonio pubblico, l'efficientamento di tutto il patrimonio pubblico e poi anche la possibilità per chi viene ad investire, perché è un'operazione a costo zero di risparmio della provincia, per chi viene ad investire anche un'operazione di produzione di energia, offrendo tutte le potenzialità di cui avete parlato. Questo abbiamo fatto, penso che è un'operazione brillante, intelligente, un'operazione che ha avuto successo perché ci sono state le competenze, perché c'è stata la professionalità, perché ci si è spesi con grande entusiasmo, perché abbiamo anche creato questa rete, l'abbiamo fatto come provincia di Catania, poi l'abbiamo fatto anche come unione delle province d'Italia, abbiamo detto alla programmazione comunitaria le province possono dare un contributo, abbiamo firmato un protocollo anche al Ministero, sul poine nazionale non riuscivano a utilizzare le risorse, le province si sono offerte al Ministero dell'Ambiente e abbiamo fatto un protocollo tra il Ministero dell'Ambiente e le province del Mezzogiorno e quindi attivando anche là una serie di risorse, ci sono state assagnate 12 milioni di euro, abbiamo fatto gli oditi energetici su molti edifici scolastici, abbiamo sperimentato e abbiamo prodotto anche una serie di progetti pilota che saranno le costruzioni del futuro, saranno le nuove scuole, saranno quelle scuole che certamente faranno risparmiare e devo dire che in provincia di Catania anche in quel caso se i progetti pilota in tutto il panorama nazionale sono una delle scuole che abbiamo messo fuori dal bando sull'efficienza energetica, l'Istituto Polivalente di San Giovanni della Punta diventerà il primo progetto pilota di utilizzazione di energie rinnovabili. Anche quindi le province italiane accanto al Ministero per dire tu che non hai utilizzato le risorse vediamo come poter meglio utilizzare avendo sempre quella dimensione ottimale per l'autorizzazione dei fondi e quindi io sono auspico la rimodulazione dei fondi e quindi sia sul versante delle province sia sul versante delle province italiane, manifesto ulteriormente la mia disponibilità, ritengo che il dibattito avete fatto bene a concentrarlo su alcune cose perché questo dibattito firmeranno, dicevo non ho motivi di dover pensare il contrario, firmeranno sicuramente il decalogo, poi quando leggo i manifesti, una pagina sui grandi temi della regione siciliana si parla di formazione ma si parla di formazione in termini molto generici, molto vaghi, non si parla di formazione che consegue, perché anche la formazione può essere il Fondo Sociale Europeo, può seguire il FESR e quindi le risorse sulle energie rinnovabili, quindi quando si parla si parla in termini molto generici, bisognerebbe fare alcune puntualizzazioni a far assumere degli impegni molto precisi che non sia il tema delle regie o delle regie rinnovabili perché è un tema troppo generico, anche le province a proposito della Ciminna e Chiaramonte il ruolo delle province, sono state determinate le province sia sulla Ciminna e Chiaramonte ma anche sul tratto Paternò e Paternò-Lentina, abbiamo fatto due elettrodotti, finanziamenti abbiamo concorso e siamo certamente oggi con quello che partirà da Rizzicone per il nord del paese, potenzierà la infrastruttura che poi dovrà immettere rete tutte le energie, quindi sono tanti temi, quindi io vi ringrazio, quindi più puntualità, dicevo che sono enunciazioni molto generiche quelle che fanno oggi i candidati alla presenza, costringiamola a fare qualcosa di più puntuale perché parlare di formazione e dire che la formazione sarà centrale, sarà strategica e poi non dire che ci sono 2000 persone in cassa integrazione o non dire che ci sono sulla formazione le risorse del FESR, del Fondo Sociale, già si stanno utilizzando per l'ex legge 24 con tutte le professionalità che le conseguono, quindi vediamo di entrare più nel merito, nello specifico e quindi anche avere l'assunzione da parte dei candidati che questa è una questione centrale, può rilanciare la Sicilia e può essere vero motore di sviluppo in un momento particolare che è quello della nuova programmazione, penso che avete fatto bene a organizzare questo incontro, noi ce l'avamo visti e chiudo, non la faccio più lunga perché poi gli spunti vengono, con Rifkin si è incontrato prima in Sicilia e poi a Potenza, a Potenza con le province abbiamo fatto le cose, a Palermo con la regione purtroppo è rimasto tutta letta la morta, quindi vediamo di inchiodarli di più perché qua al di là della polemica politica ci vorrà veramente un nuovo governo che fa diventare centrale la questione delle regie e soprattutto delle regie ritovabili, quindi grazie, complimenti e mi richiedo scusa, purtroppo il periodo è quello che l'avevo detto, quindi mi avrebbe fatto molto piacere partecipare a questi due giorni che ho visto il programma non solo intenso ma anche molto qualificato, quindi complimenti e grazie. 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 Grazie.